Adesso dobbiamo parlare di un'altra questione Allora praticamente oggi cosa è successo? Oggi è uscito il video sulla vanilla dove noi andavamo a seguire Alex Mentre entrava nel sonnito delle coccole sulla vanilla, giusto? In teoria sì, sì È uscito quello là È uscito quello là Praticamente è uscito il video, dico ah bello è uscito il video, cacchio intrigante Metto anche la musica misteriosa perché ho fatto un seguito Ah è vero, ecco la cosa grave A un certo punto vado a guardare, stavamo registrando tranquilli A un certo punto Oh Lion ma il tuo video non ha più la miniatura? Mi dicono, dico come è possibile? Vado a vedere, effettivamente la miniatura era latitante, non c'era più, era stata missing Se l'ha data di brutto Era mia, che vuol dire mia, vuol dire missing in action In gergo militare, quando qualcuno sparisce o muore, no? Missing in action, la miniatura era mia Che nel senso, la mia miniatura era mia Avete capito? Basta stigione Stai bruciando a... vai al sodo Allora io ho pensato, boh Mettiamo sullo schermo la miniatura incriminata L'avranno rapita diciamo Tu Alex l'avevi vista perché riguardava te Sì, l'avevi... ah Eccola qua Adesso mi metto un po' più di qua, così Allora, effettivamente ci può essere un vago doppio senso qua in mezzo Che poi il doppio senso... È molto bello A me sembra più che io e Anna stavamo lì alla finestra e lui ci sta facendo tipo così Tipo succate Succa proprio Succa, capito? Eh sì Però, però Voglio dire È anche Minecraft Poi c'ha le mutande È amichevole, voglio dire Eh, voglio dire Cioè, è Minecraft Io non credo che Youtube abbia potuto scandalizzarsi per questa cosa Ora, chat Ditemi voi che cosa ne pensate Cioè io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate Perché mi interessa la vostra opinione Vi sembra una roba too much? Ridono tutti Ma fa ridere, ok Però non mi pare che si Cioè, non si vede il pipiso Ho letto Ma quanto cute Ma infatti, voglio dire Cioè, cute non è Perché è Alex Però Ma non è neanche nudo Perché Aspettate che Non voglio uscire fuori fuoco Ok Perché se noi ingrandiamo moltissimo Ah, infatti ci vede tipo il pannolone C'è la mutande È il costume Il pannolone C'è il costume Cioè, è più scioccante per noi altri che siamo lì Ingrandisco ancora di più Eh, perché dobbiamo fare un esame proprio accurato Vedete Sotto la scritta sexy Si vede bene la mutanda bianca Eh, e noi qui scioccati Certamente, certamente Alex, cosa ne pensi tu? Perché abbiamo notato che Sulle mutande di Alex c'era un coniglietto Eh, eh Cosa ne pensi? No, non ho sentito Cosa ne pensi? Dicevo Io penso che Secondo me Si è scandalizzato Già, non è giusto Allora io cosa ho fatto? No, infatti Secondo me si è scandalizzato un po' troppo Poi allora io ho detto Boh, vabbè Gli avranno dato fastidio le mutande Provo a cambiarla Allora L'ho fatta così Ho ingrandito le mutande Vedete Ecco Aspetta Così siamo dallo stesso Così Così Capito Sembrava Era più tranquillo Ma sembra un rapper Così guarda di tutto Oh yeah Swag Però niente di fatto Niente di fatto Praticamente Neanche così A youtube Stava miniatura Andava bene Il video è rimasto Senza miniatura Tutto il giorno Tant'è che vi chiedo Ragazzi Se non l'avete visto Poi finita la live Andatevi a recuperare Questo video Perché senza miniatura Magari Non vi siete neanche accorti Che è uscito Però niente A un certo punto Cosa mi succede Vedo il video Che va privato Da solo Ma davvero? Sì E dico Ma quando è successo? Noi ancora non ce lo spieghiamo Sta cosa Che cacchio è successo E sto video è andato Privato da solo È sparito Io vado a vedere Era privato Infatti io non lo vedevo più oggi Chi l'ha messo privato? Ho detto Boh Sarà stato Il fantasma formaggino Che mette privato il video Il fantasma formaggino Di youtube Vado a vedere Vado a vedere Era privato Io l'ho rimesso Ho detto Boh Cambio di nuovo La miniatura La rendo Ancora più Che ne so Un po' più diversa Perché gli hai messo Anche la maglietta? Adesso Adesso ti faccio vedere Adesso ti faccio vedere Se la trovo Che dove cacchio l'ho salvata Mo Non la troverò mai più Come l'avevo chiamata Quella nuova? Aspettate Mo la trovo Perché vi devo far vedere Io l'ho visto Ed era molto bella Cioè le cose Tua madre Deve insegnarti a stare zitto Nella tua vita Non l'ha fatto Poverino Te lo insegno io Questa è l'ultima versione Aspetta che Ecco qua Vedete Aspettate che sono uscito fuori Con vestiti tutto sexy Tutto rosa Tutto sexy Cioè il vestito tipo Ariana grande Bellissimo Ti piace? Ti piace così? Mi piace tantissimo questo vestito Ho detto così E' più coperto Il signorino Sicuramente Non dà fastidio a nessuno Ho pensato Per adesso il video c'è Mo stiamo a vedere Che a youtube Non gli piglia male Perché l'orso Si sta guardando il pube Lì il peluccio E magari gli prende Un po' un infarto Io mi immagino Che poi c'è anche di peggio Ma vabbè Ma direi Ma direi parecchio Di peggio Un giorno facciamo un video Su tutte le robe porche Ok? Grazie a tutti.